La sera del 15 ottobre Gian Maria ha aperto il suo cuore. In diretta televisiva ha ammesso di provare un forte interesse per Sophie, la diciannovenne per la quale ha lasciato la fidanzata Greta. Interpellata da Alfonso Signorini sulla dichiarazione d'amore che le ha fatto l'imprenditore, in puntata Codegoni ha detto che vuole essere corteggiata. Il pomeriggio successivo però, l'ex tronista di Uomini e Donne ha detto tutt'altro, parlando con alcune compagne di reality in giardino. La modella ha precisato che Antinolfi non è e non potrà mai essere il suo uomo ideale per tanti aspetti, sia fisici che caratteriali. Mi dispiace averlo illuso. Qui dentro è come se vivessimo in una bolla. Ha esordito Sophie prima che Francesca la interrompesse per dirle che non pensava che Gian Maria potesse essere il suo. Tipo d'uomo. Infatti non è assolutamente il mio tipo. Né esteticamente né caratterialmente e lo sa. Ha ribattuto la giovane prima di elencare le cose che non gli piacciono dell'imprenditore che sembra essersi preso una. Cotta per lei.